merli hai hai bagnato le cento presenze con una buona prestazione ma insomma una prestazione che equilibrata di tutta la squadra ha sofferto un primo tempo ribaltata la situazione nel secondo con un lecco più propositivo e in fondo il 1 a 0 mi pare giusto direi direi di sì direi che la come hai detto te la squadra oggi ha fatto ha ritrovato la compattezza e quella voglia quel sacrificio di di lottare tutti assieme per andare a cercare i tre punti e questo importante volevamo volevamo far capire anche all'ambiente che che la squadra c'è che tante volte nei momenti difficili tante cose vengono vengono dette ma la verità che che la squadra ha sempre lavorato bene quando ha giocato male ha lasciato i punti ma le altre partite un po' per sfortuna un po' per qualche episodio non abbiamo portato a casa i tre punti e secondo me oggi potevamo avere un'altra classifica perciò dobbiamo avere sempre profilo basso come questa sera e continuare continuare con questa con questa filosofia di calcio cosa non aveva funzionato prima perché l'involuzione di queste cinque partite precedenti era abbastanza spiegabile quale spiegazione date voi no come ti ho detto episodio perché carrara e contro la Juve secondo me dovevamo raccogliere i tre punti in entrambe le in entrambe le partite e praticamente saremmo stati qua a giocarci tra virgolette una partita un attimo più serena oggi invece purtroppo non è stato così e la chiave sicuramente è stata che il gruppo si è si è ricompattato ci siamo guardati in faccia insieme al mister insieme allo staff e questa squadra dei valori perciò si vuole fare un buon campionato bisogna ripartire a lavorare come come stasera tutti assieme senza senza mai mollare una palla senza senza diciamo tra virgolette cercare di di tenere diciamo il profilo basso ecco ma se vuoi la cena prego eccomi qua allora Ivan in quattro giorni non cambia la vita quindi c'è stato qualcosa a livello mentale che deve essere cambiato in voi per forza perché Renate eravate stati veramente troppo brutti per essere veri tu fai cento presenze visto non so quante versioni diverse dell'ecco sicuramente questa non ne avete viste già tante oggi non siete stati belli ma non serviva obiettivamente serviva fare questa partita nel primo tempo si è visto che avevate un po di freno a mano tirato ma nella ripresa avete spinto perché volevate vincere la partita e poi l'avete vinta con merito anche con un pochino di fortuna perché cisco che prende sfiora il palo esterno piuttosto che sferare la parte interna del palo è un episodio che oggi va detto bene ma sai che la fortuna aiuta gli audaci quindi in quattro giorni cosa avete cambiato a livello di testa giustamente io sono dell'idea sempre che gli episodi possono cambiare le partite quattro giorni fa l'episodio era sfavore al primo tiro siamo andati sotto ed è stata una partita in salita in questo momento non non ce l'avevamo non ce l'avevamo di recuperare mentre come dici te in questi quattro giorni ci siamo guardati in faccia e sapendo che questa squadra ha dei valori sia caratteriali che tecnici guardandoci in faccia ci siamo detti che dovevamo voltare pagina e cercare di essere quelli delle prime quattro partite poi oggi non è stato un lecco spumeggiante è vero ma ma credo che sia questa sia la prestazione di tutti nel mettere davanti il noi e non non l'io perché secondo me questi campionati quali li porti a casa con con tutti i 25 giocatori non con il singolo e perciò la strada è stata quella per ripartire è stato solamente guardarsi in faccia e capire di dare quel qualcosa in più per portare a casa le partite o comunque l'atteggiamento giusto per arrivare a giocarti la fine in fondo a posto grazie complimenti per le 100 presenze specifichiamo che sono 102 le 100 le ha preso per la juventus andre 23 oggi giocava in casa abbiamo premiato per quello sono 102 in campionato con la maglia blu ceresta ferenza radonia prego microfono fiore direi che non lo sentiamo federico non lo vedo davide hai qualche domanda in attesa che ci rendi no volevo volevo chiedere ciao intanto volevo chiederti tu ti senti titolare di questa squadra di questa difesa quanto mi sento titolare esatto sì sì perché siete siete tanti e tu stai trovando grande spazio in questo momento no beh allora ti dico la verità titolare o no come quando si parte inizio campionato è chiaro che si punta a giocare più partite possibili io devo lavorare farmi trovare pronto adesso in questo momento anzi siamo anche quasi contati perciò io devo lavorare so che devo lavorare sodo quando quando gioco bene lo so quando gioco male lo so non sono più un ragazzino perciò ecco io devo guardare partita dopo partita e tenere la testa bassa profilo basso e continuare a fare il mio ecco grazie poi volevo chiederti difensivamente secondo te quali sono state le carenze più grandi nelle scorse partite e cosa invece non è mancato oggi e mi viene da dire un po anche contro la juve ma no a livello difensivo anche le partite che abbiamo perso più che altro è stata la reazione che è mancata perché credo che abbiamo lavorato quasi sempre bene anche in tutte queste tutte queste partite già dall'inizio è chiaro che ci sono anche gli altri ecco quando commetti due tre ingenuità in questa categoria poi prendi gol la cosa che dobbiamo migliorare sicuramente è quella la cosa di di saper reagire alle difficoltà perché una squadra come la nostra non può permettersi di di accendersi e spegnersi durante le partite e niente è cambiato come dicevo prima anche a Matteo è cambiato l'atteggiamento di guardarsi in faccia e voglia fare un campionato importante poi è chiaro noi l'atteggiamento ce lo vogliamo mettere sempre vogliamo vincere sempre ma se fosse così avremmo già vinto il campionato piano piano dobbiamo guardare una partita alla volta e lavorare e lavorare per per raggiungere i nostri obiettivi allora mister ho visto una squadra contratta ma tenace nel primo tempo un lecco pulitivo assolutamente attento ben messo in campo contro lo ricordiamo un novara che aveva una cerniera di centrocampo che l'anno scorso in serie b era quella della salernitana di ventura perché firenze migliori insomma non li scopriamo certo noi un primo tempo quindi un lecco giustamente contratto come ci aspettavamo una ripresa a questo punto per larghi tratti anche ben giocata un gol magnifico e un lecco che risponde con carattere a un momento veramente di difficoltà hai detto tutto tu la domanda manca fiore ho detto tutto io hai fatto la tesamina fiore la domanda qual è la domanda la domanda è che ho visto un grande lecco ecco cos'è cambiato no no grande no non c'è saluta non guarda ti ringrazio ma non non ci dobbiamo esaltare abbiamo fra tre giorni una partita io ho il termometro dello dello sfogliatoio e quindi ti dico che la tesamina della partita è giusta fatta da tutti tutti voi ma primo tempo contratto però attento non contratto disattento perché comunque il contratto vuol dire allungarsi magari aver paura eravamo un po timorosi e ma concentrati diciamo poi nel secondo tempo io mi sono permesso di dire ragazzi a fine primo tempo che la stavamo interpretando bene ma ci mancava un po di libertà di di esecuzione ok infatti simone ha determinato dudu ha determinato i tre là davanti hanno determinato un gol meraviglioso io ho detto solamente di divertirsi il calcio è un divertimento va bene essere concentrati va bene essere tignosi ma poi devi essere propositivo quando hai la palla e diciamo che questa partita mi ha dato degli spunti importanti ma perché non abbiamo creato tantissimo però finalmente siamo stati cinici rispetto alle altre partite quindi è un dato importante sono contento che ha fatto col dudu perché è rimasto freddo a tu per tu col portiere quindi stiamo migliorando con il ragazzo ci parliamo molto perché lui secondo me può fare un gol a partita potenzialmente deve migliorare sottoporta oggi lo ha fatto con grande freddezza e poi niente dove dobbiamo resettare non dobbiamo io non ho visto un grande lecco io ho visto ho visto 25 giocatori che hanno saputo mettere in campo il cuore l'anima e che nel secondo tempo hanno fatto qualcosa di bello poi siamo rimasti in dieci ingiustamente perché c'era un espulsione per loro sul falo di galli che ci sta ci stava spaccando il ginocchio e quindi hanno hanno saputo lavorare di squadra non bellissimi però è una vittoria del gruppo questo e ringrazio i ragazzi per questo ecco sicuramente un'ultima considerazione la faccio a questo punto sul piano tattico il grande recco era riferito alla voglia e all'intensità sì sì ecco in questo senso non vorrei essere frainteso a me galli come giocatore piace molto io lo conosco so che è un giocatore che può dare molto di più però è un dato di fatto mister in contraddica per cortesia una volta uscito galli la manovra dell'eco si è velocizzata è diventata automaticamente più fluida questo ragazzo che è un ragazzo di grandi qualità che può dare molto nel processo del campionato secondo me dico una cosa pesante prendetela per quella che è in questo momento rallenta il gioco dell'eco lo rende meno fluido è una considerazione pesante per avere una risposta insomma no sono caratteristiche può darsi in questo momento può darsi però sono caratteristiche però diciamo che il giorgio è partito le prime quattro partite alla grande poi ha subito un'infortunio alla caviglia a stretti i denti ha ripeso la botta lì ed è stato fermo due settimane quindi ha avuto due due interruzioni per via dalla caviglia e quant'altro poi è successo che è entrato oggi dove ha giocato a scusami a renate dove non tutti siamo andati bene ha bisogno di ritrovare un po di ritmo partita di intensità nel passaggio nelle idee e prende un'altra un'altra botta diciamo diciamo che marotta rispetto a giorgio come caratteristiche meno il ruolo è meno fisico però è più trotterellino è più motorino e ne trova anche giovamento bolzoni però giorgio oltre a essere per me un bravissimo calciatore è un ragazzo meraviglioso uno che ha stretti i denti per per la causa quindi ha bisogno poi un ragazzo che ama inserirsi e ce l'ha ce l'ha è normale che se parliamo del regista vero e proprio nessuno è regista sono bravi palleggiatori ma non sono non c'è come caratteristiche i buzzegoli di turno che si abbassa c'è il lancio sono dei giocatori che se hanno il ritmo giusto riescono ad avere una buona manovra in questo momento giorgio magari pecca un po più là però io credo che la presenza in campo di giorgio per la squadra importante al di là che se gioca non gioca perché trasmette professionalità serietà e la squadra in questo momento ha bisogno di questi uomini speriamo di non averlo perso per tanto tempo perché la botta è stata veramente forte grazie marcello villani prego una formazione compatta e scelto quelle che ti davano più fiducia volevo sapere come mai pissardo se c'era qualche problema per bertinato e poi di mazzolati e giudici che cos'hanno faccia dottoressa allora la scelta di pissardo per me e bertinato e pissardo sono due buonissimi portieri e pissardo ho la concebolezza che faccio giocare uno faccio giocare l'altro so di avere una garanzia perché sono due ragazzi e due portieri bravi ho voluto dare l'opportunità a pissardo per questa partita ma come la come l'ho data tra virgolette ho scelto danna come ho scelto bolzoni per me non c'è più perché se diciamo che il cal il portiere è il primo giocatore che fa iniziare la manovra quindi si 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 valuta il portiere più come un giocatore non il portiere che ha un ruolo a sé allora nella scelta e nella mia intuizione nella scelta in dare una possibilità io li tratto come giocatori non posso ho avuto ho avuto la voglia di cambiare niente contro bruno che è un ragazzo meraviglioso un buonissimo portiere però se io ho la carta pissardo mi sono giocato la carta pissardo per quanto riguarda lino lino era un po era un po debole si sentiva un po faticato come luca e ho preferito portare ho preferito portare in campo quelli che stavano bene quindi l'ho lasciati a casa per non dico scelta tecnica ma per una scelta per farli recuperare e niente poi vediamo come stanno oggi avevo bisogno di gente che anche i tre minuti come ha fatto mola alla grande potesse darmi tutto ed essere in piccolo fisicamente infatti non ne ho non ne ho convocati tanto tanti proprio per no per dare un segnale ma per portare quelli che potevano avevano più di ricordo era solo psicologia dunque il momento difficile visto che oggi avete recuperato anche consapevolezza ma guarda il calcio è fatto di emozioni nel calcio è fatto di fiducia e sfiducia fatto di esaltazione e depressione io sulla mia pelle queste due settimane mi hanno mi hanno dato un qualcosa in più a livello caratteriale non mi hanno abbattuto mi hanno fatto riflettere perché se uno non sei un allenatore ma qualsiasi uomo non riflette su delle critiche e le fa sue per in per crescere non può andare avanti secondo me però dico anche sono realista dico anche che secondo me ancora ancora oggi dopo la partita dopo aver vinto contro una grande squadra non perché quando giochiamo col piacenza diciamo che abbiamo giocato con una squadra che deve salvarsi oggi abbiamo giocato con una squadra che ha detta di tutti con l'alessandria quella dei vinci al campionato chiusa parentesi però però la mia domanda è ancora oggi quella che vi faccio prima della conferenza pre partita noi dobbiamo avere la consapevolezza e la voglia di sapere cosa vogliamo essere io quello voglio vedere c'è la la continuità anche se non sei bello da vedere in alcune partite fermo restando che noi riusciamo a fare solo col belli perché oggi è stato un gol bellissimo magari con la juve davanti alla porta sbagliamo anche lì dobbiamo essere consapevoli e aver la voglia di voler essere un qualcosa anche di brutto ma avere la nostra identità e io oggi dopo la partita con Novara sono qui ancora a chiedermi e a sperare che i ragazzi possano prendere consapevolezza che con l'umiltà la serietà nel lavoro l'atteggiamento giusto e la compattezza si può si può uscire o si mantiene un trend positivo si può uscire da una situazione un po' più critica se solo lavorando come ha detto meri lavorando ognuno per il compagno poi ripeto io questa vittoria la dedico al gruppo perché il gruppo scende in campo e neanche volevo venire a parlare ma non per mancarsi rispetto contro i voi per dare la possibilità al gruppo di poter godersi la vittoria perché il merito è loro secondo me Matteo Bonaccina prego ciao mister ti faccio i complimenti perché non era facile mettere in campo una squadra in cui comunque rimettere in campo sai Bolzoni tu dici chi sbaglia a mettere in campo Bolzoni però comunque avevi fatto la scelta di non schierarlo nelle ultime partite oggi gli hai dato fiduciata dal primo minuto e hai avuto ragione ha fatto il senso secondo me uno dei migliori e cambiato tutto l'attacco quindi insomma io penso che quando si arriva a una svolta come quella che potevi aver tu o rimandi in campo gli stessi 11 tranne chi non poteva esserci o cambi e cambiare è sempre un rischio e quindi hai avuto anche a mio parere coraggio a fare delle scelte e riuscire a dare motivazione alla squadra perché dicevo anche a Ivan oggi non serviva essere belli serviva essere efficaci e metterci gli attributi oggi voi indubbiamente l'avete fatto perché il primo tiro in porta è stato quello di migliorini al 94esimo con un po' di testa e quindi mister ti voglio chiedere in questi quattro giorni il secondo perché un infarto è un minuto prima però ha tirato fuori no no è chiaro che l'abbiamo avuto tutti l'infarto di tutti però comunque rimane un tiro fuori quindi la prima parata di pissardo è stata quella comunque al di là di di questo in questi quattro giorni quanti pensieri ti sono passati quante e anche quanti per la mente quante non so magari tentativi di formazione è abbozzato prima di arrivare a questa che oggi è schierato ma guarda Matteo ti dico la verità avevo le idee chiare ma no perché avevo le idee chiare perché perché ripeto come ho detto prima uno ha il termometro della situazione ma no perché è sceso in campo bolzoni premesso che come ha detto il direttore prima della qualche qualche tempo fa una settimana fa io posso dubitare su un periodo no di un giocatore ma non sull'uomo perché noi abbiamo scelto gli uomini oggi doveva essere una partita da uomini ma non avevo dubbi io i miei giocatori quando sono in difficoltà gli voglio più bene di prima se hanno un atteggiamento è la voglia giusta oggi hanno dimostrato non il tunnel di danno a centro campo non la gioia la veronica di dudu hanno dato un segnale forte non so a chi ma pensa loro penso anche a me che questo è un gruppo e io lo ribadisco che hanno dei valori hanno dei valori dobbiamo lavorare sulla consapevolezza di questi valori tecnici valori mentali valori umani e e metterli insieme e non farci portare dal dal maltempo dalle onde dall'uragano anche perché ho detto ai ragazzi state tranquilli perché nel calcio da quando è nato gli inglesi hanno inventato il calcio credo da quello che mi raccontano ha sempre pagato l'allenatore quindi voi di che caccia avete paura cioè quindi quando succede questo e prendono consapevolezza di questo poi io so che loro non dico che sono attaccati a me però c'è un bel c'è un bel rapporto nel dare avere ok loro io gli do loro mi danno e io ricevo e loro ricevono e ma oggi hanno dimostrato un po tutto l'ambiente alla stessa società che comunque investe e credo in questo gruppo che sono dei bravi ragazzi sono dei ragazzi che tengono all'ecco e tengono a far bene ripeto possiamo essere più belli più brutti ma se hanno questo atteggiamento e i ragazzi devono sapere che tra tre giorni si gioca e dobbiamo dobbiamo avere questo atteggiamento di voglia di fame di chi ci ha contraddistinto fin dall'inizio e nella parentesi buia e dobbiamo hanno dimostrato che nelle tempeste però nelle tempeste poi ci puoi ricadere di mettere l'ombrello ti devi coprire non è poi prendere broncopormonite o raffreddarti e non reagire oggi hanno reagito nel primo tempo ripeto hanno fatto un tipo di partita e nel secondo tempo hanno fatto la partita che siamo abituati a vedere però ripeto non io sono già proiettato per grosseto perché dobbiamo mantenere i piedi per terra e pensare solamente a lavorare solo quello basta dobbiamo solamente lavorare prenderci le critiche i complimenti però ripeto non il lavoro il lavoro alla fine paga la serietà paga io dei ragazzi seri il seconda battuta pensavo avresti cambiato proprio 30 secondi prima che segnassimo detto secondo me qualcosa cambia perché si vedeva che avevate la possibilità di far male avevi è vero che poi in panchina avevi quattro mezzali una punta e due esterni giovani due portieri e un centrale quindi non avevi moltissima varietà di scelta oggi però pensavo che avresti cambiato esempio pensavo avresti magari potuto inserire i dara io faccio un esempio perché l'unico giocatore in fascia molto offensivo che avrebbe magari potuto portarti a avere un uomo in più avrebbe potuto saltare l'uomo è vero che non ha mai giocato però questo tipo di caratteristiche loro mi sembravano molto in difficoltà sul vostri uno contro uno infatti poi da due duelli è uscito il golo sì guarda Matteo però il problema sono anche gli equilibri perché ai dara comunque se metti ai dara devi cambiare modulo se non vuoi cambiare i tre davanti e quindi comunque facendo entrare ai dara poi è stata anche una partita che se l'aveva a leggere una partita della malizia poi tutto è tutto più rimbomba un po di più la comunicazione però c'erano i grandi i tre difensori novara che facevano a botte tra virgolette sempre agonisticamente parlando con con capogna condanna ce le siamo date l'abbiamo prese fare entrare un giovane che non ha mai giocato in questa partita per carità ha verso spazio e però poteva diventare nei confronti degli avversari un po più il capo espriatorio per cercare di indurla sbagliare quindi ci sono anche delle dinamiche mentali poi alla fine ripeto hanno fatto bene volevo cambiare prima del gol cercato di mettere diciamo un centrocampista che potesse accompagnare partire da dietro perché nella loro fascia diciamo nella nostra sinistra avevano grosse difficoltà loro nel scalare sia tu due che danno lo facevano bene insieme a capo feti volevo mettere un cento una mezzala per accompagnare i tre con fare il 3 contro 2 quindi mezzala quinto è una punta poi è subentrato il gol per fortuna e ho cambiato volevo prima dell'espulsione di danno volevo cambiare e mettere 3 5 2 perché sapevo che cominciavano a mettere palla lì e volevo mettere danno insieme e scusami nando insieme a capogno e far uscire due due e mettere un centrocampista perché sapevo che poi tra i fatti laterali cacci piazzati mi servivano centimetri poi è successa l'espulsione e ho dovuto adattare un po tutto davide un'ultima domanda flash sì un po di tempo fa ci ha detto in questo periodo più si gioca meglio è dato che con questo turno infrasettimanale adesso si gioca domenica e si è giocato anche lo scorso sabato le chiedo se ha cambiato idea o se ancora della stessa opinione guarda più si gioca meglio sì perché con però il problema il problema nasce nel nei viaggi nel cambiamento d'orario quindi noi siamo soggetti in questo momento sia io che tutti i miei colleghi dalla serie a tutti i miei colleghi della lega però siamo soggetti a preparare un 50 per cento delle cose perché so che l'altro 50 lo devi stravolgere per via dei cambiamenti per via dei tamponi per via di rimandare una partita anche la programmazione e quindi sì più si gioca e meglio è perché hai meno tempo di pensare quindi prepari la partita e hai un modo per sviarti nella settimana tipo in questo momento può diventare un po più difficile perché siamo soggetti ai tamponi siamo soggetti ai controlli se come è successo siamo soggetti a cambiamenti repentini d'orario e vi posso garantire che gestire questa cosa non è facile o dei dei sia il direttore fracchiolla che il direttore maiolo ho un supporto costante perché mi aiutano e cerchiamo di come si può dire coprire nell'immediato e cercare di risolvere il tutto e o e ringrazio e ringrazio soprattutto chi sta collaborando esternamente con noi per non far mancare niente ai ragazzi e dal mangiare dal dalla merenda da quindi siamo su questo siamo organizzati li ringrazio però ripeto non è facile quindi sì meglio giocare ogni tre giorni comunque consumi energie mentali sul campo ti prepari agonisticamente anche nell'adrenalina la partita grazie posso un ultimissima cosa tu dai flash mi permetti mister si vocifera si vocifera sono indiscrezioni di un potenziale stop pro tempore di due settimane il campionato per recuperare le gare e poi per recuperare tutti coloro che hanno avuto la positività saresti d'accordo anche dipende quando matte lo dicono però abbiamo bisogno anche lì di sapere pressa poco una data e poter organizzare sapere quanti giorni liberi dare se possiamo andare a casa dalle nostre famiglie se dobbiamo allenarci perché comunque dopo due settimane effettive si gioca io sono potrei essere anche d'accordo però se poi da due diventano tre ecco che lì devi cambiare programma cioè fare una mini preparazione lasciarli tranquilli fare due settimane tipo quelle che facciamo di solito perché poi se da due settimane si passano a tre settimane ecco che lì cambia tutto quindi avere soprattutto anche da parte di chi la butta lì come idea di aver di farla a 360 gradi cioè se deve strutturarsi deve strutturare anche uno stop che si possa strutturare a 360 gradi in modo tale che noi ci possiamo anche organizzare partita due volti però alla fine ha vinto la squadra più equilibrata sei d'accordo no era una partita difficile e secondo me l'abbiamo interpretata il modo giusto tutte e due le squadre volevano fare il risultato perché comunque sia noi che il Novara non venivano da momenti particolarmente positivi però secondo me nel secondo tempo noi siamo scesi in campo meglio e abbiamo creato molto di più e fino al nostro gol loro nel secondo tempo non avevano superato a metà a campo poi è stato un episodio e siamo stati bravi poi a tenere duro fino alla fine secondo me a posto Matteo? sì ok Matteo Bonaccina prego ciao Marco allora diciamo che abbiamo è stato tutto lungo è stata lunga la tua trattativa è stato lungo aspettare il tuo debutto ultima palla al novantesimo la prima parata da portiere so che non è mai particolarmente piacevole ricevere il primo tiro della partita in una gara così importante su una palla da fermo diciamo che eri pronto ecco mettiamola così perché su quella palla eri pronto a intervenire quindi anche mentalmente sempre lavorato bene evidentemente per essere sveglio al novantesimo ecco no esatto io sono arrivato qua a fine mercato anche se la trattativa andava avanti dai primi di luglio però ci sono stati un attimo di intoppi con l'Arezzo però mi sono arrivato qua mi sono messo a disposizione ho sempre fatto il mio mi sono sempre allenato bene quindi allenandomi sempre bene sono adesso che è arrivato oggi è arrivato il mio momento mi sono fatto trovare pronto e ti dico la verità all'inizio magari è stato un attimo ci sono voluto un paio di minuti per riabituarmi però poi alla fine diciamo che la parte difficile del mio lavoro è stare concentrato 90 minuti perché oggi alla fine poco impegnato sì però magari ogni 10 minuti una palla che devi uscire una palla che devi gestire sono tutte situazioni non facili poi soprattutto non giocavo da due mesi quindi non è stato facile però anche è andata bene dai sono contento della partita Fiorenzo Radogna prego domanda a te sì certo buonasera Pissardo lei gioca bene coi piedi è vero? gioco bene coi piedi me la cavo diciamo non mi invento niente faccio quello che mi chiede il mister però logicamente non non mi invento cose che non sono alla mia portata diciamo però comunque ci provo ecco diciamo ci provo un'ultima domanda veloce quanto è stato difficile aspettare di esordire? i nuovi partiti sono tanti sicuramente diciamo non è piacevole logicamente stare in panchina ma sfido chiunque a dire il contrario io sono arrivato e come ho detto prima mi sono messo a disposizione del mister e non ho mai avanzato diciamo non ho mai fatto casino o chiesto niente solo mi sono messo a disposizione mi sono allenato dicendomi nella mia testa che prima o poi sarebbe arrivato il momento oggi il momento è arrivato diciamo che sono stato bravo e fortunato a farmi trovare pronto ecco grazie Avide Sì velocissimo il rapporto con Bertinato siete due primi portieri com'è il rapporto tra voi due? Ma no il rapporto è buonissimo logicamente c'è un po' di rivalità ma dal punto di vista professionale certo non c'è rivalità c'è un certo c'è astio nei confronti della persona ecco logicamente però facciamo lo stesso ruolo si gioca in uno quindi quando ci si allena c'è rivalità ma solo dal punto di vista professionale ecco non c'è assolutamente nessun tipo di astio diciamo di problema con Bertinato ecco